Cade in acqua nel canale navigabile del Brenta e rimane aggrappato a una bricola chiedendo aiuto fino al salvataggio dei Vigili del Fuoco. È successo in via 4 novembre a 90 Padovana. L'anziano di Dolo è caduto dalla bicicletta scivolando nel Brenta ed è stato trascinato dalla corrente per una quindicina di metri fino a quando è riuscito ad aggrapparsi ad una bricola e dare l'allarme urlando aiuto. Quello dei Vigili del Fuoco è stato un salvataggio difficile vista la presenza di Gorghi e Mulinelli e in quanto le operazioni di soccorso si sono svolte in prossimità delle opere idrauliche di livellamento del canale.